Ciao belli del zio, sono Andrew, pronto a raccontarvi una storia da brividi. Vediamo qual è il primo caso del canale, Danny Rowling. Iniziamo bene. Prima di iniziare vi dico subito che sono anche su Twitch, nel quale ogni sera dalla domenica al giovedì alle 21 ci divertiamo con roba simile che non è divertente. Comunque, la storia di cui parleremo oggi riguarda una serie di eventi macabri e inquietanti avvenuti all'inizio degli anni 90. Questi eventi hanno ispirato uno dei film più famosi di sempre, Scream. Ci troviamo in una piccola città americana situata nel nord della Florida, chiamata Gainesville. Città che è sempre stata molto tranquilla, come sempre in questi casi, ed era conosciuta per la sua rinomata università e la squadra di football. Questi eventi stravolsero per sempre la tranquillità di quella cittadina, e per capire meglio di che cosa stiamo parlando, dobbiamo tornare indietro nel tempo al 20 agosto del 1990. Quel giorno Gainesville viene nominata a tredicesima città migliore in cui vivere negli Stati Uniti. Ora capite di cosa stiamo parlando. Una città tranquilla, abitata prevalentemente da universitari. Ma qualche giorno dopo, il 26 agosto del 1990, Patricia Powell e suo marito Frank si trovavano nel parcheggio di un complesso di appartamenti, nei quali loro figlia Christine, di appena 17 anni, insieme ad una sua amica Sonia Larsen, di 18, si erano da poco trasferite per frequentare il college. Nonostante Patricia e Frank non sentissero da qualche giorno la loro figlia, non erano molto preoccupati. Pensavano che nonostante non avessero notizie, la loro figlia stesse bene, si era appena trasferita e probabilmente era impegnata ad organizzare le sue nuove giornate da universitaria, o a uscire con i nuovi compagni. Insomma, erano abbastanza tranquilli. Questo almeno finché dal parcheggio non scesero dalla macchina e arrivarono di fronte alla porta di casa in cui la loro figlia si era appena trasferita. Sulla porta trovarono dei postiti e dei bigliettini, attaccati probabilmente da qualche compagno. In quei bigliettini c'era scritto che alcuni di loro erano passati nell'appartamento, ma nessuno aveva risposto, e quindi dicevano alle due giovani che si sarebbero incontrati in un altro momento, in un altro luogo. I genitori si iniziano a preoccupare seriamente. Provano quindi a bussare, forzare la porta, ma nulla. Quindi corrono subito fuori nell'area comune del complesso, dove trovano un addetto alla manutenzione, a cui spiegano la situazione, ma nemmeno lui dice che può fare nulla, quindi va a parlare con il suo superiore. Una volta chiamato il responsabile e spiegato la loro situazione, chiamarono subito la polizia ed entrarono nell'appartamento. La gente, per precauzione, chiede ai genitori di stare fuori, mentre lui, il manager dell'edificio e l'inserviente entrano a controllare. Una volta dentro la gente cominciò a chiamare la ragazza, ma nessuno rispose. Fu solo quando cominciarono ad ispezionare la casa che trovarono la ragazza, e non appena la videro, l'inserviente non riuscì a trattenersi. Urlò spaventato e corse fuori dalla casa, finendo per vomitare proprio di fronte ai due genitori di Christine, che, vedendo questa reazione, corsero dentro l'appartamento. Provarono tutti a fermarli, ovviamente, ma non puoi fermare dei genitori così preoccupati. Quello che si trovarono davanti fu una scena raccapricciante. Loro figlia Christine era sdraiata a terra davanti al divano, era sdraiata a pancia in giù, ed era stata appuntata più volte, e messa in una posizione appositamente strana per chi poi l'avrebbe trovata. Una posizione quasi sessuale. A quel punto i genitori vennero allontanati di forza dalla casa, e il poliziotto continuò a cercare all'interno dell'appartamento la coinquilina Sonia, della quale non c'era alcuna traccia al primo piano. Così andò al piano di sopra, dove purtroppo la trovò nelle stesse identiche condizioni di Christine. Dopo qualche ora arrivarono anche gli operatori forensi, e scoprirono segni di effrazione sulla porta. Trovarono anche del sapone usato per pulire le tracce sui cadaveri e sugli oggetti. E tutto questo fece pensare che il killer fosse molto preparato. L'avesse pensata bene, insomma. Sul corpo di Christine furono trovati anche dei segni di nastro adesivo sui polsi, che però erano stati tolti post-morte, apposta per metterla in quella posizione strana. Inoltre l'autopsia confermò in seguito che erano state entrambe pugnate a morte, ma che solamente Christine era stata molestata mensualmente. Infine, analizzata tutta la scena, la polizia era convinta di trovarsi di fronte ad un killer che non aveva scelto le vittime a caso, e che se non l'avessero preso, avrebbe ucciso ancora. E purtroppo avevano ragione. Il giorno dopo fu trovata una terza vittima. Si trattava di un'altra studentessa, Krista Hoyt. Lavorava come impiegata nell'ufficio della polizia locale. Quel giorno però non si presentò a lavoro, cosa davvero strana, perché era conosciuta in ufficio per essere sempre puntuale, e qualsiasi cosa le succedesse arrivava sempre in orario. Mandarono quindi una volante a cercarla nel suo appartamento, situato ad appena 3 km di distanza dalla casa di Christine e Sonia. Krista viveva da sola, e gli agenti pensavano di trovarla lì, al loro arrivo. Quindi bussarono, ma nessuno rispose. Andarono quindi sul retro per vedere se ci fosse un'altra entrata, e lì c'era una porta finestra scorrevole, che aveva le serrande leggermente alzate, così la gente guarda dentro per vedere se ci fosse effettivamente qualcuno, e quello che vide fu raccapricciante per lui. Krista era appoggiata sul bordo del letto, era completamente nuda anche lei, e aveva dei segni evidenti di coltate sulla schiena. Ma questa volta, al contrario delle prime due vittime, era stata depitata, e la testa era stata posizionata davanti al corpo, per apparire come se si stesse guardando da sola. Anche qui vi furono segni di effrazione nella porta finestra sul retro, e come nello scorso caso, venne utilizzato un cacciavite. In più la ragazza presentava gli stessi segni di nastro adesivo che erano stati ritrovati su Christine. A questo punto, a Gainesville, scoppiò il panico. Il caso divenne nazionali, e tutti i notiziari ne parlavano. E solo il giorno successivo, il terrore si amplifica ancora di più, quando vennero trovate altre due vittime, Tracy Pauls e Manny Taboada, vengono trovati morti nel loro appartamento dell'università. Era la prima volta che il killer colpiva un maschio, e questo fatto ha contribuito non poco ad aumentare ancora di più il panico. L'arma utilizzata era sempre un coltello, e come le altre vittime, Tracy era completamente nuda, posizionata in modo scenico, e anche lei era stata molestata semplicemente. Manuel, al contrario, era vestito e in nessuna posizione strana, ma era come se fosse stato ucciso e lasciato lì in quel modo. La cosa che fece aumentare ancora di più il panico, fu il fatto che Manny era un ragazzo molto muscoloso, e sembrava che il killer l'avesse ucciso senza compiere il minimo sforzo. A questo punto, nessuno si sentiva più al sicuro. Nessuno camminava più da solo. La popolazione si armava di qualunque cosa per essere più sicura, e centinaia di studenti lasciarono la città per la paura. E non tornarono mai più, ragazzi. Fu a questo punto che la polizia, su segnalazione di alcune persone, trovò il primo sospettato, Ed Humphrey. Lo arrestarono quindi per abuso domestico, dato che aveva tirato un pugno in faccia a sua nonna. E già lì c'è la merda. Ma comunque lo trattennero per un bel po' di tempo, dato che era l'unico sospettato per tutti quegli omicidi. Misero su di lui una cauzione altissima di un milione di dollari, che ovviamente non aveva e nessun membro della sua famiglia aveva. E indovinate un po', con Ed in carcere, gli omicidi si fermarono. Le persone non avevano dubbi che si trattasse di lui. Cazzo, guardatelo. E un'altra cosa inquietante su di lui, è lo strano sorriso che fece durante il processo. Polizia e popolazione erano convinte di aver catturato il killer di Gainesville. Ma, ad un certo punto, gli agenti scoprirono che il sangue di Ed e quello rinvenuto sulle scene del crimine non combaciavano. Così venne scarcerato. Panico. Le indagini erano tornate al punto iniziale. Utilizzarono così il V-Cup, un programma dell'FBI, che inserendo la descrizione delle scene del crimine, cercava vari altri casi simili. E utilizzandolo trovarono un solo caso simile avvenuto appena un anno prima a Shreveport. Non ho idea di come si pronunci. In Louisiana. Si trattava del triplice omicidio di William Grissom, Julie Grissom e Sin Grissom. In qualche modo i media vennero subito a sapere di questa scoperta e lo comunicarono ai 420. Quindi la polizia si incazzò. Perché significava che qualcuno passava delle informazioni. E anche perché il killer poteva sapere tramite loro a che punto erano le indagini. Per un fortuito caso, però, una volta uscite le notizie, una donna di nome Cindy che aveva visto i servizi chiamò la polizia dicendogli di stare attenti a un uomo chiamato Danny Rowling. La donna abitava a Shreveport e disse che Danny era mentalmente instabile. Andava sempre in giro con un coltello e riferì anche alla polizia di Gainesville che un giorno disse a suo marito che gli sarebbe piaciuto accolgare delle persone e che un giorno sarebbe partito verso un luogo pieno di donne da osservare. Così la polizia indagò su quest'uomo. Scoprirono che aveva dei precedenti per rapina e per tentato omicidio e fecero un collegamento fondamentale. Durante la stessa settimana degli omicidi ci fu una rapina irrisolta a Gainesville. Il rapinatore era riuscito a scappare, ma gli agenti inseguendolo erano riusciti a trovare nel bosco una tenda con dentro la borsa piena di soldi, un cacciavite, una pistola e una cassetta audio. Durante quel periodo, però, visto il panico generale e gli omicidi imminenti, la polizia non aveva tempo di analizzare la scena e ascoltare la cassetta, pensando si trattasse solamente e ascoltando la cassetta, rimasero scioccati. Si trattava di una canzoncina cantata da un misterioso killer che parlava di come accogliare in modo efficace una persona, in modo molto specifico, e alla fine del nastro, l'autore della canzone rivela la sua identità, Danny Rowling. Il 15 novembre, Danny, che già si trovava in carcere per un'altra rapina, venne accusato di tutti gli omicidi e trasferito in una prigione di massima sicurezza. Inizialmente si dichiarava innocente, ma alla fine del processo si dichiarò colpevole e confessò di essere stato lui a perpetrare sia gli omicidi di Shreveport che quelli di Gainesville. Disse anche che l'aveva fatto perché voleva diventare una sorta di superstar come altri famosissimi serial killer tipo Ted Bundy. E cazzo ragazzi, c'è riuscito! Hanno fatto un film, una serie di film, ispirandosi totalmente a lui. E non so se avete presente, ma io mi immagino che l'atmosfera di Gainesville durante quella settimana fosse proprio come si vede nel film. Credo che siano riusciti a immortalarla perfettamente. Questo era Danny Rowling, un uomo particolare con un passato difficile e una storia di rapine e abusi che hanno portato a quegli omicidi e gli hanno fatto guadagnare il soprannome di Squartatore di Gainesville. Conoscevate la storia che ha ispirato Scream? Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto ora più che mai dato che il canale è appena aperto. Se avete consigli su altre storie da raccontarvi, sono tutto orecchi. Ma comunque vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento alla prossima settimana con un altro foil. Ciao!